Bene amici, in queste giornate virulente siamo qui, chiusi in casa. Cosa fai? Allora io ho pensato di farmi una chitarra con una pentola, una vecchia pentola di alluminio che stava per andare in discarica, l'abbiamo salvata. Questa canzone la dedico a tutti voi, meglio sarebbe che non ci fosse il virus, ma c'è ragazzi, quindi bisogna che ci accontentiamo. Vi faccio sentire il suono di questo strumento meraviglioso, così al nudo, proprio crudo. Eccolo qui, vado. Meglio sarebbe. Sì, Elena. E quando non ti vedo, piango tanto, che non mi scorre il sangue nelle vene. Meglio sarebbe, se non ti avessi amata. Sapevo il credo, ed ora l'ho scordato, pur non sapendo più la De Maria. O me potrò salvare, l'anima mia. 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 A presto A presto A presto A presto